è molto molto importante imparare a progettare nel modo corretto per far sì che gli oggetti escano esteticamente bene con le stampanti 3d ho realizzato un'altra volta un portachiavi molto semplice e l'ho fatto così velocemente vi ho fatto vedere come tracciare da un'immagine jpeg e il logo e poi io ho creato una piastrina ho creato la piastrina e ho esportato il file fine non ho considerato quanti strati compone il mio oggetto per esempio una cosa invece da fare soprattutto per lavorare a più colori tipo 3 4 5 è contare gli strati gli strati quindi i livelli che lasci sul piano in questo caso non ho realizzato il modello con determinate misure ma adesso voglio impostarle vediamo voglio che sia un portachiavi largo 6 centimetri quindi 60 millimetri punto e virgola quindi base per altezza lo voglio da 2,5 quindi 25 premo invio e mi si genera il mio rettangolo quindi prendo il mio oggetto lo raggruppo ora per comodità e lo porto vicino alla forma che ho fatto che so che è 6 millimetri e poi con lo strumento deforma lo deformo tenendo le proporzioni uguali ora so che più o meno è 6 centimetri di larghezza prendo lo strumento misura e voglio misurare quanto è alto come dice 3,4 millimetri potrebbe essere tanto potrebbe essere poco ora capiamo che 3 millimetri virgola 40 per un portachiavi può essere sufficiente la cosa invece da modificare è la scritta per me e facendo doppio clic entro vedete all'interno del mio gruppo facendo doppio clic ancora entro all'interno di un altro gruppo e modifico la mia scritta perché per me potrebbe essere fatta più bassa poniamo il caso anche di volere realizzare e stupire un cliente realizzare ogni lettera con il colore diverso vedete ora sono tutti sulla stessa altezza se una stampante tradizionale la prima cosa che devo fare è partire dalla lettera più bassa e dargli una determinata misura che può essere io ora imposto 0.6 cioè è io questo gadget lo stamperò a 0.2 di altezza due decimi di millimetro il primo strato cioè la prima lettera farà solo tre strati e poi quella lettera lì finirà quindi io imposto 0.6 lunghezza errata perché ho cliccato il punto quindi 0.6 clicco invio e so che adesso da qua qua ci sono sei decimi di millimetro prendo lo strumento estrudi tolgo estrudendo al contrario e questa lettera qua adesso so che è spessa sei decimi di millimetro poi cos'è che posso fare voglio realizzare la e magari la r l'ho fatta rosa la e verde e allora la porto allo stesso livello della r che sono sempre sei decimi e rialzo di sei decimi 0.6 e clicco e stessa cosa farò per tutte le altre lettere prendo questo lo sposto qua e rialzo di 0.6 clicco poi stessa cosa farò con la i 0.6 e con la t clicco porto al livello e poi 0.6 vedete che cliccando e portando su un'altra forma il cursore l'oggetto che sto modificando prende la stessa forma ctrl z torno normale ora clicco al di fuori del del mio livello e in questo modo potrò fare un gadget a sei colori l'ho progettato per essere fatto a sei colori perché c'è quello della placchetta più gli altri cinque io questo file qua ora per farvi vedere anche e darvi una prova su come poi funziona lo esporto lo chiamo tiger e ho importato il portachiavi che ho fatto questo qua è un portachiavi e una prova e per farvi capire come funzionano i colori e la gestione degli strati perché la gestione dello strato è relativa al colore ora io vado nella selezione livelli guardo il singolo layer e se imposto a 0.2 e 0.2 anche per comodità lo spessore del livello iniziale io vedrò come il mio oggetto pian piano se cambio il filo ogni volta cambio il colore vedete qua sta facendo la r a un certo punto la r finisce qua inserirò un altro colore e via via se siete capaci potete impostare le pause con degli slicer con cura faccio un po di fatica potete impostare meglio le pause entrando nel gcode e più avanti ve lo farò vedere entrando nel gcode vuol dire apprendolo con un programma tipo bloc note e mettendo le pause a codice come volete voi perché per ora con cura non riesco spero che questo consiglio ti sia stato utile ora puoi realizzare un gadget anche a sei colori con la stampante 3d che presenta un colore se questo video ti è stato utile condividilo metti un bel like alla prossima